ciao amici di saper fare benvenuti in un altro video oggi parliamo di amplificazione o meglio una mini amplificatore bene mi trovavo in tutte le cose che avevo in diciamo così provistato poco fa nel mio la mia stanzetta questa cassa è una cassa praticamente di un paio di casse di per pc amplificate però questa è la parte passiva della cassa quindi se io collego per esempio un segnale ovviamente non viene amplificato ebbene mi sono detto perché non fare un mini amplificatore ma proprio piccolissimo per utilizzarlo anche in laboratorio per esempio come ricerca dei segnali a bassa frequenza di piccoli segnali a bassa frequenza e quindi oppure anche per ascoltare della musica semplicemente con questo piccolo mini amplificatore è composto da tre componenti un transistor bc 547 una resistenza da 2,2 o anche 2,7 k è un praticamente un condensatore elettrolitico da 33 micro farad a 16 volt adesso lo vedremo nella breadboard che ho preparato dopo di che vi farò vedere lo schema su come realizzarlo ma vi farò appunto ascoltare la differenza andiamo a vedere bene come vedete praticamente questa è la breadboard dove ho installato il bc 547 b la resistenza da 2,7 k il condensatore elettrolitico da 33 micro farad a 16 volt quindi a questo punto poi ho collegato il positivo dell'altopallante al positivo di alimentazione della batteria sto utilizzando una batteria a 9 volt il segnale in uscita della della radiolina che arriva direttamente all'ingresso del condensatore la massa ovviamente collegato all'emettitore del transistor e adesso vi faccio ascoltare le due differenze tra il segnale normale preso dall'uscita della della radiolina sentite il rumore e questo è il segnale preso invece direttamente l'uscita dal collettore del transistor vedete c'è molta differenza probabilmente abbiamo una amplificazione di circa dieci volte in più andiamo a vedere come realizzare questo schema molto semplice addirittura lo possono fare chiunque quindi questo è l'in bassa frequenza per segnale questo è il condensatore elettrolitico il più sarà all'entrata è il negativo del condensatore elettrolitico che porterà direttamente a la resistenza da 2,2 k per avere più potenza oppure 2,7 per avere meno potenza a questo punto questa la collegheremo al collettore del transistor mentre questa andrà direttamente alla base quindi dalla base del transistor direttamente all'uscita del condensatore tra resistenza e condensatore a questo punto qui collegheremo il negativo dell'artopallante e qui collegheremo il positivo dell'artopallante direttamente alla fonte di alimentazione la fonte di alimentazione potrebbe essere variabile tra i 5 a 9 volt ovviamente corrente continua mentre l'emettitore del nostro transistor andrà direttamente a massa quindi faremo una massa comune sia per il segnale di bassa frequenza sia per l'alimentazione questo è lo schema di realizzazione molto semplice da realizzare in due minuti abbiamo finito tutto quanto bene ovviamente questo schema è praticamente lo trovate sul appunto sulla descrizione del del video lo potete scaricare tranquillamente ci vediamo nel prossimo video vi invito sempre se non avete fatto a iscrivervi al nostro canale youtube saper fare attivate la campanellina per essere sempre aggiornati dei nuovi video ci vediamo al prossimo video ciao ciao